Saranno sentiti a fine gennaio dal sostituto procuratore di Arezzo Iulia Maggiore i due ex sindaci di Cortona Andrea Vignini e Francesca Basagneri per fare chiarezza sulla custodia del cantiere nel Cortonese dove il 3 maggio del 2023 precipitò nella notte riportando ferite mortali un anziano affetto da un'importante patologia. Secondo quanto si apprende il cantiere relativo ad una casa in costruzione nel 2011 e nel 2016 anni in cui si riferiscono esposti circa la mancata custodia e l'abbandono dello stesso sarebbe stato attivo come dimostrerebbero fotografie scattate sul posto. La prima segnalazione è datata a gennaio 2011, le foto con il cantiere aperto risalirebbero a novembre 2011. Non è indagato il sindaco attuale Luciano Meoni. Il PM Maggiore sentirà i due ex sindaci come detto a fine gennaio e in quell'occasione ognuno porterà la propria documentazione. Nella giornata di domani è peraltro in programma la riunione del PD a Cortona che dovrà decidere circa il candidato del centro-sinistra. Andrea Vignini da quanto trapela è intenzionato a scendere in campo comunque.